Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Oggi ci sono venuti a trovare due ospiti eccezionali per la prima volta nei nostri studi. Laura Adriani, benvenuta Laura e Francesco Arca. Benvenuti. Grazie mille. Allora, so che voi volete parlare di sport, so che voi volete parlare di calcio, lo so, lo so che siete venuti per questo. Tra l'altro Francesco sei anche candidato per avere una rubrica su Corriere dello Sport. Lanciamo qui l'appello, poi vedremo però adesso prima parliamo delle cose che siete qui oggi. Ovvero sia di questa fiction che è già partita, Fiction Rai, che si chiama Resta con me. Allora, sono uscite le prime due puntate, giusto? Assolutamente sì, sono uscite le prime due puntate domenica scorsa, in prima serata sul Rai 1. Domenica ci sarà il secondo appuntamento. Siamo molto tiepidamente contenti, non vogliamo fare nessun tipo di proclamo, perché comunque è stato un ottimo risultato per la nostra prima volta insieme da protagonisti sul Rai 1. Direi di sì, anche perché questa fiction, per chi ancora non ha visto le prime due puntate, insomma, ovviamente è già disponibile anche sul Rai Play, insomma, si può assolutamente riferire un po' sulla piattaforma. È una fiction che è un thriller, è un poliziesco, ma che nasconde dentro tante altre storie belle, interessanti, soprattutto molto attuali, no? Perché c'è il tema dell'adozione, c'è il tema della famiglia, c'è il sentimento, c'è il romanticismo. Ci sono tante cose dentro, giusto? I rapporti personali sono i rapporti personali che intercorrono fra i personaggi, i rapporti familiari, di cui vi parlerà sicuramente meglio Laura, che è, diciamo, chiamata in causa proprio su questi rapporti, sono approfonditi, sono sviluppati. Sono tanti temi toccati, sviluppati, non giudicati, perché lasciamo una libera interpretazione anche allo spettatore di buttarsi dentro a questa serie. Che bravo, io non lo so se adesso voglio parlare. Adesso c'è una competizione, vediamo chi è più bravo, scherzo, no? Senti, Laura, il tuo ruolo, invece, il tuo personaggio è quello che tocca un po' proprio il tema sociale, giusto? Sì. Me lo vuoi un po' raccontare innanzitutto? Allora, innanzitutto il mio ruolo è quello di Paola, che è un giudice dei minori, quindi già questo ci fa capire di che cosa lei si occupa. Allora, inoltre, appunto, il suo compagno, suo marito, Alessandro, dopo, diciamo, una disgrazia che ci è capitata, che il pubblico ormai sa che è stata la perdita del nostro bambino, decide di portarmi a casa un ragazzo, un bambino di 11 anni, appunto, interpretato da Mario Di Leva, che salutiamo, amore. Che succede? Che ovviamente lei fa fatica ad accettare questo bambino innanzitutto perché sta male e poi con l'andare avanti del tempo in realtà si scoprirà sicuramente un rapporto tra questi due esseri umani, un bambino e una donna grande, ma in realtà si scoprirà un rapporto di interscambio e non solo con me ma anche con lui e la presenza di Mario diciamo farà da aiutante anche a questa coppia perché anche di questo parla la serie, non solo di adozione, non solo della perdita di un bambino, di maternità, ovviamente di un poliziesco, ma parla anche di una crisi di coppia molto grande, molto, molto, molto grande e molto profonda e noi siamo in un tempo un po' strano per quanto riguarda le coppie. Io non sono sposata, non sono fidanzata, quindi sono l'ultima che può parlare, però ecco veniamo da una società in cui l'amore era per sempre e doveva essere così perché se non era così tutti parlavano male. Poi siamo arrivati invece ad un momento quasi in cui non ci si crede più che possa in realtà funzionare, non dico per sempre, però che insomma le crisi si possano superare, quindi mi sembra un po' che a volte ci sia un ricambio come tipo quello degli iPhone, un po' tanto superficiale, quindi il fatto di vedere che questi due esseri umani con i loro errori entrambi, forse riusciranno, forse no, però comunque ci provano ad affrontare questa crisi. Ma sì, ma io penso che anche il bambino, proprio per quello che ha detto Laura giustamente, che il bambino è quello che ci mette un po' in contatto con le nostre emozioni, i bambini questo fanno, una cosa che noi adulti ci scordiamo sempre di fare e tirerà fuori le nostre contraddizioni, sarà come ha detto giustamente Laura, più lui ad aiutare noi che noi lui, perché comunque mettendoci in contatto con le nostre emozioni, anche questa cosa di doverci riprovare, di volere riprovare, di avere la pazienza per rimettersi in gioco e non di chiudere un rapporto così all'improvviso, questa pazienza è una cosa che sicuramente forse nei rapporti di oggi viene un po' a mancare. Allora, ovviamente il tema che avete affrontato l'avete detto benissimo, quindi insomma... È ampio. È ampio, assolutamente ampio. Anzi, speriamo possa essere approfondito, no? Anche nella stagione successiva, insomma. Che magari ci amiamo un po' di più. Che magari vi amate un po' di più. Non so come andranno avanti queste puntate, perché insomma... No, siamo ancora alla seconda. Ce ne sono tante, ti dico la verità, che verranno sviluppati tantissimi temi, questi verranno approfonditi, ci sarà più una parte anche di poliziesco notturna, quindi comunque vedremo una Napoli completamente differente, altre storie d'amore. Quindi comunque il racconto, che è molto lungo, sono 16 puntate raccolte in 8 serate da 100 minuti, ci ha permesso anche di andare a fondo molto sui personaggi. Quindi siamo solo all'inizio. E quindi siamo solo all'inizio, è appunto, hai detto benissimo. Allora, questa storia, l'idea ovviamente di Giovanni, giusto? Sì. Che è una pena non indifferente, diciamo, però è basata non su libri. Questa cosa va aiutata nel preparare il vostro personaggio, va dato più libertà? Cioè per un attore è meglio avere qualcosa su cui prendere, attingere oppure no? Ma io ti parlo personalmente avere la libertà di poter spaziare senza avere un personaggio scritto e comunque che ti dà delle barriere entro le quali ti puoi muovere, puoi dare delle sfumature. Non avere queste barriere spaziare completamente, secondo me, è molto più bello. La libertà in tutti i suoi aspetti è una parola stupenda, no? Certamente c'è la figura della regista, secondo me, che qui ti aiuta molto, che inquadra bene il personaggio e te lo rinchiude lei all'interno di alcune barriere, chiamiamole così, artistiche, entro le quali devi stare. Beh, secondo me, a me piaceva tanto interpretare un personaggio che arriva da un libro. Non penso che mi sia ancora mai successo, forse non lo sapevo e non ho letto il libro. Questa donna non c'è, non ha il libro. Però, no, sicuramente è anche una grande responsabilità interpretare un personaggio che arriva da un libro, soprattutto se l'hai letto, è tremendo. Quindi, no, sicuramente, non lo so, è stato bello interpretarlo. Sì, 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 ma hai detto giustamente te che poi la sceneggiatura, la nostra sceneggiatura scritta da Donatella Diamanti è quella che è un po' alla quale noi facciamo un po' riferimento, no? I nostri personaggi si costruiscono grazie alla penna di Donatella Diamanti. Però, diciamo che le... Non è improvvisata, ecco, c'è ovviamente la sceneggiatura, c'è un caraccio... No, nel senso non avere proprio, sai, ci sono molti, magari escono molti libri su un determinato personaggio, quindi più o meno tu sei indirizzato. Invece non essendoci libri, essendoci solo una sceneggiatura, magari riesci... Senza che io ho fatto uno spin-off di un film, ho fatto una serie tratta da un film. Quindi, pensa alla difficoltà, perché in realtà lì avevi proprio degli attori italiani davanti ai tuoi occhi, e la difficoltà lì, secondo me, sta nel non copiare, ma nel prendere quel personaggio e farlo tuo. E fare quella cosa non è facile, perché ti viene quasi da andare verso quello che è già stato fatto. Invece bisogna sempre rimanere... E allora, questa cosa qui esce veramente bene, perché lei, oltre ad essere bellissima, non c'è bisogno che te lo dico, lo vedi, è una bravissima attrice. È stato veramente incredibile lavorare con lei. No, davvero. Ma io ho saputo che... Allora, scusa. Allora, arriviamo alla fine, arriviamo alla fine, poi ritorniamo per un attimo alla serie. Della fiction, ho saputo che, insomma, durante le riprese, no? È anche un galantuomo, Francesco, perché quando andava da cena pagava sempre lui, è vera questa cosa? Allora, è impossibile tirare fuori il portofoglio con Francesco, ma non lo fa solo con le donne, lo fa anche con gli uomini, tanto che io gli dicevo, tu hai dei figli, la devi smettere. Gli dice così, tu hai dei figli, la devi smettere. Non so, sta cosa del senso di responsabilità, sai, siamo i protagonisti di questa serie. Un po' quando andavamo, anche con gli altri attori, mi sentivo un po' in dovere, no? Come se fosse con Laura, invece era solo assolutamente un piacere. E noi abbiamo lavorato molto prima, un mesetto prima di cominciare a girare la serie, ci siamo fatti tante cene insieme, perché comunque, sai, la fortuna di avere il tempo, a quel punto devi sfruttarlo al meglio, no? E secondo me, due persone che sono marito e moglie, che si conoscono da 15 anni in una serie, che devi cominciare a girare il mese dopo, qual è il modo migliore se non approfondire? Ed è quello che abbiamo fatto noi. Sì, sì, facevo proprio la signora a Napoli con Francesco Arca, guarda, mi mettevo là, facevo proprio la signora. Napoli che è un'altra grandissima protagonista della serie, ovviamente. Poi, insomma, questa Napoli, come dicevi giustamente, è notturna, cioè, dà tutto un altro sapore, no? Cioè, a vedere le immagini... Sì, abbiamo girato i luoghi più conosciuti, i luoghi meno conosciuti, ma la cosa bella di Napoli è veramente che è più a livello emozionale, no? Visivamente è stata raccontata in ogni modo. Noi la raccontiamo in una maniera forse un po' metropolitana, quindi diversa, ma questa notte che la andiamo a raccontare è una notte oltre che di gioventù, di brio, di energia pura, è una notte anche di solidarietà. Una cosa che, infatti, sì, e sono molto felice di dirlo, questa solidarietà che c'è nelle notte napoletane, questi angeli delle notte che aiutano le persone che hanno bisogno. Ci sono tantissimi esempi e giornalmente avevamo persone che aiutavano e le abbiamo viste, le abbiamo conosciute, ci siamo anche liberamente ispirati a loro. È molto bello da vedere. Preparando l'intervista, ho ascoltato alcune cose che voi avete detto in questi giorni durante la promozione, ma mi ha colpito una cosa che in effetti è vera, no? Lavorare con un ragazzo, con un bambino, insomma, no? Perché Mario quanti anni ha... È molto bene, è un ragazzo, è un maggiorenne. Un bambino ragazzo, se vuoi dire. È un maggiorenne, allora, al 125. Con un bambino, ti permette anche di ricordare quando tu lavoravi a quell'età o volevi diventare attore a quell'età, no? L'ha detto Laura, spoiler. Perché tu hai cominciato più o meno quando aveva cominciato lui, no? Ho letto questa cosa. All'età di Mario avevo, sì, 12 anni e per me rivedere Mario è stato fare un bel salto indietro e anche affrontare comunque le delusioni, perché io voglio ribadire questo fatto. Non veniamo trattati bene, cioè, soprattutto quando sei piccolo, adesso mi cominciano a trattare bene, ma è troppo facile adesso, però quando ero piccolo nessuno mi trattava bene. Cioè, no, mi trattavano bene, però c'è del nonnismo nel cinema. E questa cosa, io, è la prima cosa vedendo Mario che ho detto voglio tutelare questo bambino, voglio proteggerlo, voglio proprio proteggerlo. E anche lui, ovviamente, anche se non ha iniziato a 12 anni, perché è lui di anima. Ma proprio io ho sentito questo, gli ho voluto donare tanto amore. Amore che a volte a me non veniva dato, ci trattano comunque diversamente. È vero, l'attore deve essere trattato bene perché fa un lavoro complesso, psicologicamente complesso, però anche il macchinista che si mette 60 kg di macchina sulle spalle a 50 anni va trattato bene. Mi sembra giustissimo, mi sembra assolutamente giusto. Allora, scusate un attimo, io torno un attimo indietro, no? Torno a quella all'inizio febbraio, tu che scendi nel scagno di Sanremo con Mario, no? E a quella battuta calcistica non possono fatta, insomma, non possiamo non ricordare a quella dello sport quella cosa che è successa, no? Sì, assolutamente. A livello calcistico. Allora, quel famoso meno 13, no? Con quella freddura che ha lanciato da Mateus. Ma quella era una cosa proprio che gli è venuta dal cuore. E' venuta. Allora, noi dove, noi, lui, Mario, doveva portare questo regalo da Mateus che era la maglietta del Napoli e quindi se l'era messa qua dietro, no? A parte che, mentre scendevamo le scagno, cioè, prima di scendere le scagno, ho detto Mario, ma... Lui era molto tranquillo. Ho detto, io con la mano è tipo... Stavo morendo. La sincopa era dietro l'angolo e ho fatto, Mario, ma te stai bene? Ho detto, stai tranquillo. Ah, lui che può dare tranquillissime. Sì, ma a un certo punto mi ha detto, ma ci abbiamo messo nove mesi a girare questa sera, però ho paura di stare sei minuti sul palco dell'Ariston. Ho detto, dai, andiamo e divertiamoci. Ho detto, se lo dici te. Quindi era lui che trasportava me. E poi ha avuto questa intuizione, che comunque è figlia proprio di una sua intuizione, ma del suo istinto, che i bambini, come ti dicevo prima, portano senza nessun tipo di paura, di timore elemenziale. E quindi gli ha detto questa cosa che è stata geniale, ripresa tutto a Napoli e diventato, insomma... Beh, sì, è stato un bel traino, perché ovviamente ne parlavano tutti. Assolutamente, assolutamente. Ma posso dirti invece la meraviglia di Francesco Arcva di dire senza paura, nonostante sia un uomo più di un metro e novanta, un sex simbolo italiano, un figaccione della madonna, la serenità nel dire quanto era emozionato di fare sì una scalinata, dire due parole, tornare indietro, presentare la serie. Però è veramente la sua emotività che non ha paura di tirare fuori, che io penso che tutto il pubblico di Raiuno vedrà e ne godrà, perché un primo piano di Francesco che guarda il mondo è veramente un bel primo piano, e non lo dico, ma lo dico perché ci credo veramente. Però in questa storia, sta coppia litiga, ce l'ava qualche difetto Francesco oppure voglio dire... Noi nella verità mai, nella verità non è mai successo. No, attenzione, chi lo sa? Ce l'avrete litigato una volta su Zetti, non è successo niente, soltanto cose per... No, su Zetti io e lei, ma... Non è possibile, mi dà l'idea che è possibile litigare con lui, non mi sbaglio. Allora, è difficile secondo me lavorare con lui. Ah, e viceversa? E anche con me, sì, io non litigo tanto. Ma anche lei, no, 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 no. Però sarebbe bello, dai, se facciamo una seconda stagione litighiamo a caso. Quale il correa dello sport, l'incazzatura di quelle... Io litigo nella mia vita pochissime volte, ma per un fattore caratteriale mio. Poi delle volte implodo e sono quelle volte che poi mi porto dietro per tutta la vita. Però infatti per non arrivare a quello io ormai ho capito degli esercizi che faccio per non arrivare ad incavolarmi in maniera brutale. Ci sono degli esercizi che faccio per tranquillizzarmi quando vedo che sto prendendo una direzione che non mi piace. Papà puoi farei su questo la rubrica, non sul calcio? Stanno dicendo non quello, ne parlerai nella rubrica dello sport, quindi magari insieme alla Roma. Adesso ci arriviamo, ci arriviamo. Prima ti faccio solo un'ultima domanda, poi chiudiamo l'intervista parlando di calcio. Allora, il tuo personaggio è un profiler, quindi con lo sguardo riesce a capire dai movimenti delle persone, riesce a capire se dicono la verità, non dicono la verità. Nella vita reale, no, voi riuscireste a stare insieme a un profiler? A me mi inquieta un po' sta cosa. Sì? Io adorerei. Adoreresti? Sì, però più un tennista adorerei. Però ti beccherebbe, certo, poi di bugie perché ti becca subito. Io non amo dire bugie, quindi sarebbe bellissimo perché mi direbbe sta nentendo. No, io direi che non proverei una relazione con una profiler. Ho trovato una cosa che vi divide, hai visto? Ci sono riuscito. Un profiler. Un profiler. Allora, chiudiamo questa intervista, sono venuti qui anche per un altro motivo, lo vogliamo dire? Sì, assolutamente sì. Per parlare di calcio, perché Francesco Arca, ma anche Laura Adriani, si sono un po' divisi i ruoli anche in questo campo. Allora, Francesco è un patito clamoroso della Roma, giusto? Sì, sì, io sono un patito tifoso della Roma e un moderato intenditore di calcio, perché lo seguo, seguo tutte le altre competizioni, altri campionati, quindi mi piace informarmi, è una cosa che ho sempre avuto, una passione. Passione che ti porta anche a seguire la Roma all'estero, giusto, ho saputo, ogni tanto segui la squadra. Quando il lavoro me lo permette, ma anche quando non lo permette. Anche quando non lo permette. E quando durante le riprese ti resta con me, lui si è assettato qualche giorno. Guarda, lui andava a vedere le partite di calcio, io andavo a surfare in Portogallo. Così ci viene. Esatto, perché Laura Adriani invece è una grandissima sportiva, giusto? Sì, mi piace tanto. Appassionati di surf, mi raccomando, hai detto troppi, non mi ricordo più. Surf, tennis, sci, yoga, no, yoga sono proprio tanto brava, gli altri diciamo sì, li fa, no, anche sci. Ma sono passioni, ce li hai. Sono passioni, no, ma per me sono anche delle metaforiche. di vita, cioè è strano che approccio determinati sport in determinati momenti della mia vita, tipo adesso sto in fissa col tennis che mi sta insegnando a vincere, è particolare. Quindi io amo gli sportivi, credo che facciano dei sacrifici enormi, che noi artisti dovremmo imparare a sacrificarci come loro perché non ci sacrifichiamo come loro. Però ci sacrifichiamo, sì sì, ma dobbiamo imparare dal loro dolore, dalla loro fatica, sai, il dolore del muscolo, quella cosa là. E quindi gli sport sono stupendi, soprattutto quelli a contatto con la natura, io li amo fortemente. E su Murigno che ne pensi? Fra i primi tre allenatori al mondo, il più grande comunicatore al mondo è Murigno Logora, chi non ce l'ha. E quindi speri che possa restare alla Roma perché sai, ci sono voci contrastanti. Ma non so, chi la pensa in maniera diversa vuol dire che capisce poco di calcio. Madonna, pensa che è bello se fai una rubrica veramente sul calcio dopo questa intervista. Ora parlo col direttore, senti rossa. Assolutamente, è la prima cosa che facciamo quando finisce questa intervista. Comunque anche tu sei simpatizzante romanista, giusto? Io sono simpatizzante romanista. Perché mi raccontavi che tu in famiglia hai dinamiche abbastanza complicate, diciamo. Sì, perché c'è un mio padre che è napoletano, mia nonna era napoletana, quindi mio papà si sente tanto napoletano ma parla super romanesco, quindi non c'entra niente. E ti fa Napoli, mio zio ti fa Napoli, invece mio cugino e mio fratello ti fanno Roma. Quindi è un disastro ogni volta. Immagina Napoli-Roma, che può succedere dentro casa Adriani, quindi è un casino. Benissimo, allora io vi ringrazio veramente che siete stati i nostri ospiti. Ricordiamo quindi l'appuntamento su Rai 1, giusto? Tutte le domeniche? Tutte le domeniche alle 21.20 su Rai 1, prima serata. Per le prossime sette domeniche avremo sette appuntamenti con Resta con me. Da vedere, assolutamente. Con Laura Adriani e Francesco. Assolutamente, giusto, perfetto. Vuoi anche prendere il mio posto, quindi conduttore? Si prende tutto il corriere, però Francesco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.